Ciao a piacere, mi chiamo Cristiano Tomei, 48 anni quasi a settembre. Ben portati devo dire, sei più bello di quando eri giovane. Sì, lì sembro le pubblicità dei parrucchieri negli anni 80, te ricordi le foto? Cesare ragazzi, comunque veniamo a noi. Lo chef Cristiano Tomei mi ha già presentata, quindi sono Eleonora Cozzella, mi occupo di gastronomia e sono qui con l'arduo compito, vedrete perché è arduo, di moderare, però nel vero senso della parola, di moderare Cristiano Tomei, che penso sia, possa essere in qualche modo il simbolo del tema di FoodExp quest'anno, perché se il rebel, quindi il fuori dal coro, il controcorrente, penso che se c'è un cuoco controcorrente fuori dal coro, coraggioso, possa essere Cristiano Tomei. Tu dici? Abbastanza. Ma io questo non lo so, io mi sono sempre chiesto che vuol dire essere ribelle, che vuol dire essere ribelle? Io ribelle non ho detto, ho detto fuori dal coro, controcorrente, un po' ribelle sei. Ma un po' ribelle sono sempre stato, più che ribelle rompi palle. Anche, ma questo io non lo posso dire in pubblico, tu lo puoi dire. Perché rompi palle? Perché secondo me nella vita, e la cucina è una parte della vita, per quanto mi riguarda, è una parte importante, ma è una parte della vita per tutti voi, la cucina, il cibo, bisogna essere curiosi e chiedersi sempre il perché si fanno le cose, e non farle perché le ho viste fare. Perché? Perché? Ne abbiamo già parlato, ma perché si mette la pasta nell'acqua bollente? Perché? Perché? Lo sapete? Non lo sa nessuno? Ma sul serio, allora vado via, ciao. E la pasta com'è? Si fa presto a dire pasta, la pasta è secca. È secca, e quando la metti nell'acqua bollente, abbondante, acqua bollente, salata, salata, abbondante, acqua bollente, salata, si reidrata. Si reidrata la pasta, è semplice, non è un'operazione così, è semplice e complicata al contempo. E non ci dimentichiamo che la pasta, Eleonora, è fatta con? La semola di grano duro. Ma! Pensate un po', la semola di grano duro. E che è il grano duro? Che è il grano duro? Non è un grano che non capisce nulla. Che non capisce nulla, non è un grano un po' così, testone. Vabbè, è un cereale. Bravo, quindi? Possiamo dire il principe dei cereali. E a questo proposito direi anche che moltissimi, visto che tu hai lanciato così la sfida perché mettiamo in acqua bollente la pasta, che spesso non si conosce la differenza tra, quando si dice pasta fresca e pasta secca, qual è la differenza? Esatto. È proprio la materia prima. Esatto. Farina di grano tenero, semola di grano duro. Ma è importante capire che il grano duro è un vegetale, ok? E in quanto vegetale ha un sapore e quindi se il pastaio è bravo, questo sapore lo senti nella pasta e quindi mi viene da riflettere, ma è giusto che queste paste siano ricoperte di salse all'infinito? Ieri sera io ho mangiato la pasta di un bravissimo cuoco dove c'era un grande equilibrio tra la pasta e la salsa. Il condimento. Allora glielo facciamo fare un applauso, era Ivan Milani. Bravo Ivan, bravissimo. Allora, per quale motivo ormai la pasta è diventata un supporto per qualcos'altro? La pasta ha sapore, la vogliamo sentire sto sapore o no? E sappiate una cosa, che questo sapore, cara Eleonora, viene fuori quando la pasta è cotta bene, non al chiodo, se vi mandano una pasta al chiodo mandateli a fare in culo subito, subito, non la toccate quella pasta lì, perché il sapore della pasta viene fuori in cottura, la cottura al dente, non la cottura che quando spezzi è bianco dentro, quello non va bene. Cioè, queste sono riflessioni che sembrano banali ma sono importantissime, sono importantissime perché questo fa parte di tutto quel gruppo di parole che si dice quotidianamente, tra cui la sostenibilità, l'italianità, è tutto in A, ma è importantissimo. Questo vuol dire profondo rispetto per chi fa questo. Non usare la pasta e buttarla nell'acqua e dimenticare tutto quello che c'è stato prima. Questo è importantissimo. E è importante sapere e essere consapevoli che la pasta di grano duro è uno degli alimenti più inclusivi che esistono nella storia dell'umanità. La pasta di grano duro ha una storia complessa. Probabilmente in Sicilia, durante la dominazione araba, gli arabi hanno portato il grano duro e facevano una pasta che si chiamava ittria, molto corta, e questa pasta serviva come moneta di scambio. Dove si è diffusa di più la pasta? Nei porti. Nei porti, non solo in Sicilia, che era anche il grano d'Italia, ma ovviamente in Campania, a Genova e in Sardegna, quindi non solo si coltivava grano duro, con l'eccezione di Genova che la commerciava esclusivamente, ma nei posti dove si coltivava il grano e c'erano i mulini importantissimi. Esatto, ittria, che poi è una parola greca, che hanno presso gli arabi, che vuol dire grano, poi alla fine, no? Cioè, vedete... In alcune regioni c'è ancora, c'è ancora cecere e ittria. C'è ancora cecere e ittria. Ma vedete che qua mi vengono brividi, sono emozionato. Emozionato. E allora, siccome io sono così, mi emoziono e mi emoziono e mi vibra tutto dentro. Quando mi hanno detto, si va a Lecce, mi hanno invitato a Lecce, cavolo. Io la Puglia, a parte che c'è qui la mia maestra e direttrice, Marta Passaseo, che è il mio braccio destro, è quella che mi salva nel ristorante, e ho detto, andiamo nella tua terra, al Salento, e mi sono un po' studiato quello. Studiato. Mi è venuto subito, no? Le esperienze anche televisive mi hanno insegnato tantissimo. I cuochi e i cuochi d'Italia portavano i piatti tradizionali. E tra i piatti tradizionali salentino c'è un piatto che non è un piatto, ma si mangia con le mani. Una specialità. Che è una roba proprio... Quelli un po' social direbbero zozza, no? No, proprio... È street food. È street food. Che è rustico. Il rustico leccese. Il rustico leccese. Il rustico ha una storia particolare, non si è ancora ben capito. No, è molto controversa. Cioè, è controversa. Diciamo che non ci sono documenti scritti del perché possa essere nato, ma c'è una ricostruzione attendibile molto interessante. Diciamo che ha fatto il percorso inverso di altri piatti, no? Pensiamo al baccalà. Baccalà era il pesce dei poveri. Soprattutto nelle campagne si mangiava il baccalà perché era roba da poveri. E ora è diventato... Era anche il pesce delle città dove non c'è mare. È diventata una materia prima nobilissima. Il baccalà costa una sassata di soldi. Giusto, Ivan? Ecco. Qui il percorso è stato inverso. Perché probabilmente rustico era qualcosa che si mangiava nel 1700 nelle case nobiliari salentine, che viene dal mondo napoleonico, quindi probabilmente è un po' una traduzione di un voulavan francese. Eh sì, pare che sia proprio la versione chiusa di un voulavan. E infatti il periodo si fa risalire alla fine del 1700, ma anche proprio metà dell'Ottocento perché c'è un elemento particolare che è il pomodoro, il cui uso si è diffuso proprio solo alla fine del 1700. Quindi questa è una delle prove per una collocazione temporale. E anche la diffusione della pasta sfoglia. Esatto, esatto. C'è la sfoglia, che voglio dire, la sfoglia nel regno, in uno dei regni dell'olio extravergine, quindi della mediterraneità pura. Vedete la cucina quanto è bella, quanto avvicina e quanto non ha limiti. E rustico ha accompagnato tutti i salentini, penso. E c'è la besciamella, che è una salsa madre che ha invaso letteralmente, per fortuna, la cucina, perché la besciamella è buona, perché è gustosa, saporita, quando è fatta bene accompagna ed esalta. Non dobbiamo vergognarci di queste cose qui. I piatti golosi sono piatti sempre intelligenti, sempre. E io che ho fatto, siccome sono un po' strano, ho fatto un omaggio a Lecce. Premetto, non ho rivisitato rustico perché non rivisita solo il medico quando uno sta male tante volte. Il rustico è rustico e non si tocca. Chiaro? Io però cosa ho fatto? Memore di un piatto che ho fatto recentemente a Identità Golose, che nel mio ristorante e poi si rimangerà quando è un po' più freddo, ho fatto una pasta, ho preso dell'acqua a bollore, del burro, ho fatto metà acqua e metà burro e ci ho buttato la pasta. E l'ho fatta stracuocere, stracuocere in questa acqua e burro. Poi l'ho setacciata, non frullata. Scusa, ti posso interrompere solo un momento perché hai usato un termine che è stracuocere o si dice anche surcuocere, non l'hai scotta perché attenzione, se la volete fare al dente e non ci riuscite, passa il tempo, è scotta, ma se la volete stracuocere apposta e allora c'è un termine, quindi non è un errore ma è intenzionale. Quindi dopo averla sucotta... Stracuotta, se è setacciata, non frullata. Quindi setacciandola, comunque si crea uno scarto, questo scarto poi noi nella ricetta precedente lo usavamo per fare un krafen, però il resto viene come un burro montato, è una cosa stranissima, ma sembra proprio il burro montato, quello di malga, quello buonissimo e ci abbiamo fatto la sfoglia, ci abbiamo fatto una sfoglia con la pasta stracotta, quindi questa sfoglia qui sa di pasta e dentro invece che della besciamella e il pomodoro, che poi l'origine vera sembra che fosse il fior di latte e il pomodoro, vabbè, questo poi... Ma c'è ancora un po'... Le versioni sono sia pomodoro e fior di latte che pomodoro, fior di latte e besciamella, poi ce lo confermeranno loro. Il ripieno del rustico di pasta è fatto con la pasta, quindi si è fatta una pasta al pomodoro, anch'essa stracotta, setacciata e con questa base ci abbiamo montato una besciamella, cioè al posto della farina abbiamo usato la pasta al pomodoro. Quindi abbiamo ricreato la sensazione del rustico con la pasta secca e questo è interessante perché probabilmente, Leonora, noi conosciamo solo il 10% delle possibilità di ricette che abbiamo con questo elemento qui, perché quando mangerete questo rustico fate un viaggio, sentite la pasta, cioè non sentite una sfoglia classica, ma proprio una pasta, anche dentro, ma mangiatelo, perché se no io ve lo racconto e siamo qui a masturbarci, a vicenda, ma prego vai, con le mani, andare. Anche perché Tomei... Anche perché questo l'ha mangiato caldo, capito? Sì, infatti. Ecco, molto caldo. Anche perché Tomei mi ricorda che appunto no al gastronanismo. Sì, no, perché questo, io lo dico sempre, la cucina non è masturbativa ma è scopativa, io lo dico scherzando, però questo scherzo poi tira su il coperchio, nel senso, prima del mio intervento c'era Andrea, Andrea ha fatto una torta di mele, va bene, ha fatto una torta di mele che non solo era buona, ma che ha un grande significato, che quelle sono le radici dalla quale deve venire fuori l'albero, le foglie nuove, non si rivisita, si riflette su quello che si è fatto e i cuochi e, permettimi, anche i pasticceri non inventano nulla, ma mettono a disposizione degli altri la loro vita. quindi la vita è amara, dolce, piccante e si sorride e si piange e nei piatti ci finisce quello, non il pensiero astruso dello chef che si alza al mattino, allora porta quel signore l'incantatore, mi sembra di conoscerlo quel signore l'incantatore, però vediamo un po' se... è questione di culo, ecco, allora, quindi il cuoco ha il dovere di mettersi a nudo, se non lo fa, imbroglia, però c'è anche un altro fatto importante che dobbiamo tenere bene in mente e invece ora tutto questo è cancellato, si alode al dubbio e non l'ho detto io, ma l'ha detto delle persone molto più importanti di me, bisogna avere i dubbi, solo gli sciocchi hanno le certezze, i nazisti erano certi delle cose e inseguivano la perfezione in cucina e in pasticceria, scusami Andrea, la perfezione non deve esistere, noi siamo artigiani e dobbiamo avere delle sfumature, le sfumature sono importantissime e soprattutto dobbiamo sbagliare, quello io mi rivolgo a giovani, se ci sono, non ce n'è, siete tutti vecchi, vabbè, comunque i giovani devono sbagliare perché dall'errore si cresce, se non si sbaglia mai non si cresce mai, ora sentite questo gioco su questo piatto, basta che non lo chiamate street food perché mi sento male, mangiare di strada c'è meglio. Ma infatti ti avevo provocato prima e non mi hai trattato male. Siccome sono buono io, sentite che però il sapore è quello della pasta, cioè la pasta si sente tanto, la pasta stracotta è un errore ma poi diventa qui, in questo caso, un plus percorso, perché ci si gioca e si sente il sapore, giusto signori illustri colleghi? Giusto, e allora ricordiamo. E io ho fatto un omaggio alla città che mi ospita, chiaro che se facessi rustico a Lucca sarei un emerito coglione, cioè detto proprio in inglese, però magari un giorno possiamo pensare a fare un rustico Lucca-Lecce o Viareggio-Lecce, insomma una roba così. Guardate il percorso, il percorso è esperienziale, sempre la vita finisce nel piatto, non idee strane, ve lo dice uno che di cazzate ne ha fatte una marea da giovani, di più, pensavo di essere Cristo che cammina sull'acqua e poi quando si cresce con gli errori si è consapevoli, Ele, giusto, e si cresce, si diventa bellissimi come sono io. E infatti, bellissimo e bravissimo. Volevo raccontare anche, visto che hai tirato in ballo la storia di questo rustico che non è precisa ma ci sono degli indizi, che probabilmente si è molto molto diffuso, quindi dalle case nobili, altoborghesi, ricche, ha fatto come dicevi tu il percorso inverso, perché di solito un cibo semplice, umile e adesso va, come dire, viene nobilitato appunto nelle grandi cucine. Questo ha fatto il percorso inverso, perché proprio per la pasta sfoglia, la ricchezza di burro e il suo essere un po' esotico, se vogliamo, nella terra dell'olio, questa ricchezza di burro, è uscito dalle case altoborghesi e si è diffuso in strada. Ma perché? Perché Lecce, a metà dell'Ottocento, diciamo tra 1830 e 60, era un grandissimo centro per il mercato del vino. Quindi venivano un po' da tutta Europa e probabilmente questo era uno di quei cibi che si offriva anche per strada quando si facevano questi commerci. E passiamo alla prossima ricetta però. Allora, è importante, ora vi ho parlato del fatto che il cibo è comunque esperienziale, no? Allora, in Puglia c'è una fortissima tradizione, in Piemonte c'è, nella mia zona per esempio, se ne mangia tantissime, di lumache o chiocciole, da noi si chiamano chiocciole, i moniceddi, che addirittura si mangiavano crude, 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 vero, crude. Crude e poi qui a pranzo un mio amico qua, Nicola, mi ha raccontato una storia infinita sulle diversità di tipologie d'approccio che ci sono. E questo è stato molto interessante, ma questa molla, pensate come è scattata, guardate com'è bella la vita e quindi di conseguenza la cucina. Io sono un fortissimo appassionato di cinema e io guardo i film quelli più impegnativi come può essere Charlie Chaplin, Buster Keaton, i grandi maestri della commedia, Black Edwards, il nostro Monicelli che era via Regino come me, Risi, eccetera, eccetera, oppure i film ancora più impegnati, ma io sono anche un grandissimo appassionato e ne vado fiero, dei film di Buzz Spencer e Terencelli, perché sono letteralmente geniali, geniali, cioè geniali hanno creato un movimento, un movimento di pensiero anche perché pensate sono film dove ci si scazzotta e non si vede mai una macchia di sangue, non c'è meno, sono film da famiglia. Uno di questi film dove c'era solo Buzz Spencer era una parodia di una cosa che è successa in Puglia, la disfida di Barletta. Era un film di Pasquale Festa Campanile dove c'era Oreste Leoniello, c'era appunto Buzz Spencer e altri attori, Philippe Noiré, insomma tanta gente anche che ha fatto una grande carriera e in una scena di questo film, nella Barletta ricostruita che era presa da sedio dai francesi, c'era la disfida di... E quindi loro erano disperati che non c'avevano cibo, per sfinimento li volevano prendere i francesi, i soldati di Ventura, il film si chiamava Soldati di Ventura, erano di fronte a un muro e tutti i cittadini di Barletta guardavano questo muro speranzosi e facevano ora escono, ora escono e escono tipo 5 lumache che dovevano sfamare 30 persone e la signora, la vecchietta vi faccio il brodo di lumache, io ci metto anche la menta, cioè capito? E praticamente era acqua insaporita con la menta, 5 lumache per 20 persone, è una roba allucinante. Allora che è successo? Mi è scattata una molla e ho detto vado là e che faccio? Uso le chiocciole, uso le chiocciole, uso questo formato che poverino, è un po' bistrattata diciamo, invece è buono, invece è molto buono e come lo uso Eleonora? Come lo uso? Allora infatti ho salvato queste qui a crudo dalla cottura che Fabio, facciamo un applauso a Fabio Cervegnini nel frattempo, che tu ci affabuli ma lui sta lavorando? Queste chiocciole le ho riempite di chiocciole, ho preso le chiocciole, le ho messe a vapore con la nepitella, che per noi toscani la nepitella con le chiocciole, con i funghi è fondamentale, la nepitella per me è il profumo dell'oliveto, mio nonno, poi ci ho messo un aglio cattivissimo che si chiama aglione, sempre toscano, poi si puliscono, si tolgono l'interiore che sono sono precotte prima di finire nella chiocciola però queste però non ho, poi le battiamo al coltello, io il frullatore purtroppo ho dei problemi, non riesco proprio a usarlo, lui o setaccia o batte al coltello, l'abbiamo battute e poi abbiamo riempito le chiocciole ma non ho preso la pasta e l'ho precotta, quindi se io precuocio una pasta, comunque diciamocelo con sincerità, sta pasta poverina, ciao, ogni qualvolta voi buttate una pasta di grano duro in abbondante acqua bollente e la tirate su per assaggiare, la ributtate giù, quella pasta lì finisce di vivere, cioè finisce tutto quello che ha fatto il Riccardino e il Felicetti in un colpo solo lo buttate nel cesso, letteralmente. Cosa succede? Che io le riempio prima e poi le cuocio nell'acqua di conserva dei pomodori pelati e in un'acqua di pomarola, è un piatto che è nato per caso, l'ammetto, come tutte le cose buone nascono per caso, in Toscana si fa carota, sedano, cipolla, basilico e pomodori maturi durante l'estate. No, peraltro scusami se apro una parentesi perché questo tuo spaghetto con la pomarola è uno dei motivi per cui, visto che c'è anche il direttore Vizzari, ora lo ricordo, hai il premio di quest'anno della guida ai ristoranti, premio pasta dell'anno per la guida dei ristoranti dell'Espresso. Che ringrazio ancora, grazie, me lo meritavo, no me lo meritavo tantissimo, è vero. Allora, l'acqua di pomarola non è altro che carota, sedano, cipolla, tutto a freddo senza aggiungere liquidi, senza neanche il sale, si porta a cottura e poi che si faceva? Si prendevano i lenzuoli, si rovesciava tutto nei campi, colava quest'acqua, la parte solida si passava e io da mio nonno ero l'addetto per passare i primi cinque minuti sono divertenti, poi due palle allucinanti e l'acqua serviva per rabboccare i vasi per essere bolliti e l'acqua mio nonno me la dava come premio perché sapeva che mi piaceva tantissimo. Con quest'acqua noi ci si faceva un riso, un giorno lui, 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 quella merda lì, Fabio, ha lasciato sulla stufa quest'acqua che ci serviva per il servizio, per fare questo riso che si faceva un po' di tempo fa, non so se te lo ricordi Eleonora, un riso con l'acqua di pomarola e l'estratto di foglie di fico. Il fico e il pomodoro hanno due molecole molto simili, quindi si esaltano a vicenda, il fico, la foglia di fico che è amara e dolce al contempo. Lui la lascia lì, ora va anche di moda farci le cose. Vabbè lasciamo perdere, non facciamo polemiche, non mattizzare e la lascia sulla stufa e arriva l'acqua di pomarola sputtanata, finita. Praticamente una melassa. Quando vado lì, prima di buttarla, io sono curioso, io mangio anche la roba bruciata per capire dove sbaglio, quello che faccio e quello che non faccio, assaggio quest'acqua, dico no, faccio no, ma che roba è? Sì, però non dire a cosa assomiglia, facciamogli farci, ce l'hai un po' da far riprovare? Mi sa di no, dopo forse sì. L'assaggio è incredibile, allora gli dico a Fabio, anzi a Juco, fai un burro di ostriche, con le ostriche di Laspezze sono ostriche verdi, assomigliano alle alghe, monta questo burro, si gira in questa salsa, fuori dal fuoco ci si gira degli spaghettini, buonissimo! E la gente che la mangiava diceva, Chef, ma come? Lei che... Lei è tutto italiano e poi mi usa, lo posso dire? La salsa di soia. Ma meglio della salsa di soia, tra l'altro senza neanche il sale, perché non ce n'è bisogno. E pensate un po', vedete la bellezza, la bellezza di questo lavoro qui, è questa cosa qui, cioè non è nient'altro, non sono elucubrazioni sul sesso della pasta e delle lumachine, capito? È questo, è questa la bellezza del mio lavoro. L'errore, il caso, e da lì si è scatenato, ora noi quella salsa lì la usiamo come insaporitore, in questo caso l'abbiamo messa insieme a un'acqua di pomodoro pelato, quindi senza far troppe cose. Etamina, quindi un tessuto molto fine, pulito, senza detersivi naturalmente, si rovescia, cola, ci mettiamo della lavanda fresca, non quella secca perché sennò sa di saponetta, di lavanda intima, va bene? Di saponetta, di lavanda intima, di detergente. E poi ci si cuoce direttamente dentro le lumachine. La lavanda è un forte alleato del pomodoro, provatela, la lavanda fresca, d'estate fate un'insalata di pomodori, ci mettete una spiga di lavanda spaccata con le mani e sentirete che il pomodoro viene fuori, il pomodoro lo sapete che ha un grosso alleato. Il pomodoro quindi tu lo levi dal frigo e poi fai l'insalata. Ecco, e se mettete il pomodoro in frigo è giusto che vi vengano le emorroidi, che vi vengano le malattie cardiovascolari, tutte le cose cattive della vita. Il pomodoro, Andrea lo sa meglio di me, il pomodoro non è un ortaggio ma è un frutto. Il pomodoro, l'acidità del pomodoro è stata inventata dalle industrie alimentari, il pomodoro anche verde non è mai acido ma è dolcemente verde, che è un'altra cosa, come i piselli, i piselli sono verdi, è dolce e verde. Verde vuol dire sensazione di pulizia, come le lumache, le lumache sono di erba tagliata. Quindi due cose non si fa col pomodoro, non si tiene in frigo e non si frutta. No, ora sul frullare lo sanno che non si frulla il pomodoro perché se no io vado via. Eh ma ce n'è di gente che frulla il pomodoro. Chi frulla il pomodoro col frullatore e ammersione merita lì proprio la morte perché non c'è altro da dire. Il pomodoro si rompe il licopene, si rompono i semi, i semi sono molto amari e poi butta fuori l'acidità. Perché l'acidità viene fuori? L'acidità viene fuori perché se ti metti un frutto qualsiasi in frigorifero il frutto tira fuori, sente una temperatura, se è un frutto estivo, che non la conosce. Quindi si difende con qualcosa che per lui è innaturale. Si ritrae, è un po' come noi, no? Quando ci si ritrae, che siamo un po' arrabbiati col prossimo, si diventa acidi. Si dice come se è acido come una suocera. La suocera è bravissima, tanto è lontana da casa quindi non la vedo mai. Però è così, no? È semplice. Guardate che anche questo è un parallelo della vita. Allora, le lumachine stanno andando. Sono qui, io sto controllando, Fabio anche. Stanno andando e la cosa magica è che rimangono dentro e un pochino si disperdono. Quindi in modo automatico si crea una salsa. Ma non sto risottando la pasta. Perché questo è un argomento, Cristian. No, non mi toccate tu mai col risottare. La pasta è una bestemmia assoluta. Cerchiamo di smetterla. Anche la pasta a bongole, la pasta con le arzelle a Via Reggina, insomma a Versiliese, le arzelle, non so come le chiamate, le telline. Sì, le telline, le arzelle. Noi si chiamano nicchi a Via Reggio. Quando la mia mamma faceva la pasta a nicchi, si faceva la salsa e le arzelle devono cuocere. Ci sono delle cose di mare che devono cuocere. Perché devono tirare fuori il sapore, perché poi l'arzella è una roba che è grande meno di un'unghia. Quindi deve tirare fuori il sapore. E deve essere una salsa tirata. Si scolano gli spaghettini, che è una delle paste più nobili che esiste, perché lo spaghettino non perdona. E si gira fuori dal fuoco. O al limite gli sta due botte in padella. Io sono stanco di mangiare le paste che sono a massi d'amido. Che sono quelle robe lì, un po' come i risotti che devi cercare il chicco, perché non lo trovi più, no? Perché è sotto la mantecature, queste mantecature ipergrasse. A me grassi mi piacciono tantissimo, non dico quello. Però la pasta è molto più difficile approcciarla così, perché lì ci sta l'intelligenza di un cuoco. Cioè le proporzioni. Noi siamo delle persone che devono entrare in sintonia con quello che fanno. Quindi se ho un pomodoro più importante di sapore, ne metto meno. Se ho un pomodoro meno saporito, ne metto un pochino di più. E poi fuori dal fuoco, nella zucchiera. Come si faceva quattro colpi e la pasta è mantecata. Perfettamente, perfettamente. Ma soprattutto hai l'emozione di sentire ancora il sapore della pasta. E non un ammasso di roba. E quella è la cosa più importante. Ci siamo perché? Sì, manca un minuto. Un minuto. Intanto, che aspettiamo che queste siano pronte, vai vai, che aspettiamo che queste siano pronte, vi parlo dell'ultima, perché me ne faccio tre. Io lavoro a Lucca e vivo a Lucca. E i lucchesi sono un po' attenti, sono un po' ticchiettini. Io su un viareggino sono molto generoso. L'ultimo piatto mi sono fatto un omaggio a me stesso. Quindi invece di fare l'acqua di pomarola, ho fatto un'acqua di scarpaccia. E ora però bisogna raccontare che cos'è la scarpaccia. La scarpaccia è un piatto tipico della zona di Viareggio, Camaiore e Lucca. Più Viareggio e Camaiore. Pensate, tra Viareggio e Camaiore ci sono tre chilometri e mezzo di distanza. A Viareggio la scarpaccia si fa dolce, a Camaiore si fa salata. Questa è la cosa che dobbiamo preservare nel nostro paese. La diversità è ricchezza. E basta. La scarpaccia è nata nell'unica battaglia che ha fatto Lucca, nella sua storia, perché è stata mille anni uno stato indipendente, perché andava d'accordo con tutti e distribuiva soldi a destra e a manca a strozzo. Peraltro il nome di quello della battaglia è facile, perché è Castruccio Castracani. Bah, Castravacani. Ma no, siamo nel 1300. Come è successo per i Cnederli, no? Questa battaglia si sono ritrovati in un posto che non c'era niente e c'era questa signora che aveva delle zucchine, della cipolla e dei pomodoracci, così. E un po' di farina. E il cuoco... Le cipolle volevi dire? Sì, le cipolle. Scusa, le cipolle. No, i pomodori no, nella scarpaccia. Sì, i pomodori ci sono. E dopo, non nel 300. No, no, ma la cosa bella è che il cuoco l'ha preso e ha fatto una pastella. Quindi ha tagliato le zucchine e le cipolle e ci ha messo farina e acqua. E poi la cotta in un testo, sopra il fuoco. Questa è una cosa importante, perché molti pensano sia una frittata, invece in quella originaria non ci sono le uova. No, si dice scarpaccia proprio perché è un nome un po' dispregiativo. È come una scarpaccia, una scarpa logora, come una scarpa poco comoda. invece è buonissima. È buonissima e qui è uno di quei piatti dove c'è il sapore d'insieme. Ci sono tanti esempi, io vi cito quelli più vicini a me, lo citavo prima. Il riso con le bietole e le seppie, diciamo con lo zimino che si fa a Via Reggio durante il carnevale. Non è che senti le seppie e le bietole, senti il sapore complessivo. La scarpaccia è un piatto semplicemente complesso, come tutta la cucina, e addirittura quando la mangi sembra una proteina. Cioè ti dà l'illusione di mangiare carne. E guardate che la zucchina è uno degli ortaggi più stupidini che esiste, sulla faccia della terra. Non è che ha questo sapore che ti porta via. Però vedete l'ingegno, l'ingegno porta sempre a risultati sorprendenti. E questo è nella riprova. Io che ho fatto... Hai fatto l'acqua di scarpaccia? Ho fatto l'acqua di scarpaccia. Quindi dopo si sono aggiunti i pomodori verdi, tagliati i fini, questa torta salata, e io l'ho fatta invece con carota e carota, con zucchine, cipolla e pomodoro verde. L'ho fatto stracuocere. Ho fatto quasi un fondo di scarpaccia. È incredibile la consistenza, che è questa. Vuoi un cucchiaio per tirarla su? Guardate il colore e la consistenza. Sembra che un fondo di carne, no? Ma soprattutto il profumo. Qui c'è una fortissima nota tostata. Tant'è che la zucchina diventa quasi amarognolo. Questo fondo qui. Guardate che è verdura. C'è giusto un pochino d'olio. Ma è verdura. Questa è sostenibilità. No essicca la roba nell'essiccatore per 5 giorni o cuoce nelle buste per 3 giorni il maialino. Questa è sostenibilità. Questa è sostenibilità. Tiè. Perché anche qui, siccome ho aperto... Io rubo una lumaca. Come c'avevo 45 secondi liberi nella mia vita, ho aperto anche un'azienda agricola dove produco l'olio più buono della storia dell'umanità che si chiama Manunta. Vuoi fare la canzone, no? Manunta, la natura di prima mano. No, di Mutigliano, perché io sto a Mutigliano vicino a Luc. Ma se mi sentono, mi perrealano. E quindi ho piantato, mi ha preso un po' la mano con le zucchine quest'anno. Abbiamo quasi 300 piante e sappiate che la zucchina quando è in produzione fa almeno uno zucchino al giorno. Almeno uno, se non due, barra tre. Quindi un po' li uso al ristorante. Ma ho detto, facciamo di necessità virtù e costruiamo intorno alle zucchine diversi piatti. O magari uno. Allora, io non ve lo chiedo se vi è piaciuto, ma mi pare di sì. No, infatti sì, lasciate un attimo i piattini, fate un applauso. Mi pare di sì, mi pare che l'avete mangiato con gusto, quindi non ve lo chiedo. Ti devo dire che questa lavandina... Non ve lo chiedo perché se c'è una cosa che mi fa incazzare e quando il maestro viene a tavola ti fa tutto bene? E io a uno l'ho detto no. E quindi? E lì dopo mi scoppia la tragedia. Si chiede mai tutto bene. Però mi sembra che avete mangiato. Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. La lavanda? La lavanda ci sta, ve l'avevo detto, no? La lavanda fresca, eh? Vi ripeto, non usate la lavanda quella per i lavaggi intimi, perché quella no. Per i cassetti, per la secca che fa di sapone, no? No, no. Però siccome ora la lavanda tira fuori le spighe e le spighe prima che si aprono sono molto, avete sentito che freschezza, ma soprattutto avete sentito queste lumachine che sono tra l'altro per la precisione sono di un produttore piemontese che me le manda, sono buonissime. E anche qui facciamo una riflessione. Questo è uno dei veri mangiari del futuro. Cioè, le lumache sono uno dei futuri possibili, perché è una proteina a costi giusti. Beh, gli allevamenti poi appunto possono essere, cioè si può produrre una grande quantità di chiocciole, in questo caso l'helix pomazia, in piccoli appezzamenti. Quindi, insomma, è veramente la proteina del futuro. Peraltro, su questo è molto interessante perché non si è mai capito veramente se fosse, è un mollusco, se catalogarla come carne o pesce. Per esempio, nel Medioevo era una fonte di proteina molto amata perché non era vietata in quaresima, cioè non era considerata carne. Quindi, è interessante questa doppia valenza di realmente né carne né pesce. Sì, questo è interessante. È interessante anche capire che, per esempio, quando le faceva la mia nonna, mi ci voleva tipo 5-6 giorni per digerirle, perché le facevano cuocere tantissimo. E era, lo raccontavo prima, era un piatto che doveva fare, da noi si dice, comparita, cioè scena, doveva riempire, perché era una cosa che si trovava, cioè non è che c'era il produttore, si andavano a raccogliere. No, insomma, può rientrare, ora dico un'altra parola e lui mi sgrida, nel foraging. No, il foraging, fatelo per me, il foraging, in Italia si fanno gli erbi. Oggi mi diverto, no, va bene, comunque, per chi va a raccogliere, come si va a raccogliere erbe spontanee si può raccogliere anche le luma. E più fortunati ci mettevano la cotenna della pancetta, la cotenna del lardo per insaporirla, quindi veniva un piatto molto importante. E le lumachine poi dopo fanno un effetto deflagrante, proprio tipo i lampascioni. Sì, sì, ma poi si faceva anche col pomodoro dopo, chi la faceva in bianco col pomodoro. E ci si metteva la nepitella, questa mentuccia che noi usiamo con i funghi. Ma sai, le lumache assomigliano all'erba come a funghi, anche a funghi quelli più giovani. Insomma, a San Di Prato, ci si fa tanti problemi sulle lumache, ma poi è un mangiare veramente facile, d'approccio gustativo. È molto infantile, è un po' come il parmigiano reggiano, che io uso tutto, intendo tutto. La crosta ci si fa un brodo, con la crosta dopo stracotta ci si fa generalmente una pastella per friggere, perché a me piace anche friggere. Io frigo e mi piace friggere, ci faccio un dolce, naturalmente Andrea mi massacrerebbe, ci faccio un dolce col parmigiano e mi piace tantissimo. Ma perché ci piace il parmigiano? Perché ieri sera se ne parlava, eh Eleonora, il parmigiano ce l'abbiamo dentro, che la prima cosa che mangiamo nella vita è una cosa che assomiglia tantissimo al parmigiano, che è il colostro, non è il latte. Il colostro se noi lo assaggiamo, io ho assaggiato quello dei miei figli, dalla tetta, non il mio, quello della tetta della mia moglie. No, perché è così quando... No, no, è chiarissimo comunque. E sa di parmigiano un po' rifermentato anche, no? Si può assaggiare quello delle mucche volendo. Ecco, non è una cosa, non è un caso che il parmigiano trionfi, e non è un caso che lo mettiamo anche a volte nelle preparazioni di pesce, perché ce l'abbiamo dentro e quello è il vero umami. Cioè io sono la persona più aperta e più vogliosa all'integrazione, alla contaminazione culturale, assolutamente. Però non mi potete dire che in Italia abbiamo bisogno di usare la salsa di soia o la salsa di pesce o la soia fermentata coreana, capito? Magari una volta, eh? Quella che ti piace tanto nelle bottigliette. Sì, cioè la famosa cucina delle bottigliette, ne abbiamo così bisogno. Io credo che dobbiamo sempre indagare, no? Si parla sempre di quello che c'è lontano e non conosciamo quello che abbiamo vicino. E questa è una mancanza culturale fortissima. La pasta, ripeto, ne conosciamo pochissimo di tutto. Guardate quello che abbiamo mangiato oggi, no? Ne conosciamo poco con l'aggravante di pensare, di conoscere, di sapere tutto. Sì, perché poi... Cioè di dare lezioni di come si fa la pasta. Poi siamo anche molto, noi italiani siamo anche a volte molto presuntuosi, no? Beh, la pasta si usa così, si fa così e basta. Beh, la pasta fino a poco tempo fa, anche in Italia, era usata come contorno. Stava vicino ai piatti come contorno. Nasce come contorno, la pasta nasce come elemento vegetale del piatto, chiaramente. E, l'abbiamo già ricordato più volte, non esistendo le salse di pomodoro, veniva condita poi con, ecco, con i succhi di cottura, di risulta delle carni. Guardai che si è concentrata ancora di più, ma guarda, cioè, un po' come prima, quando ti ho visto che hai fatto quella melassa straordinaria di mela, eccezionale. Queste sono cose che abbiamo sotto gli occhi e che ci dimentichiamo di avere. sono cose veramente facili, facili perché poi la facciamo anche complicata, è la colpa nostra, nostra di quelli con le casacche, perché a volte ce la vogliamo un po' raccontare, invece è bello condividere quello che si fa in maniera totale e non risottare mai la pasta. Perfetto, tanto su quello le denunce sono già tante, quindi... Addirittura, perché dici che non si risolta, sarà un'opinione. Ecco. Io vedo la mia giacca a rischio con questo. Io vedo che le cose stanno andando molto bene perché, guardate quello che succede, guardate questa salsa qui, è incredibile. Se non gli assomiglia a quello che vi dicevo prima. E se scivola la salsa è un bene, non è un male. Cioè noi bisogna dargli sapore alla pasta, non solo violentarla. Vai, metti che sono... Ce le metto io queste. Dopo, so, come il prezzemolo quello sbagliato. Allora, questo invece è senape. Queste sono foglie di senape. Senape, ora non c'è più la senape selbatica da noi, ma io coltivo anche la senape. Mi faccio di sen... Però la sena mi piace, mi piace tantissimo. Sia le foglie che poi i semi. E le foglie sono molto interessanti perché sono piccanti, ma non eccessivamente piccanti. Se le aggiungete a un'insalata, fate una roba. Le insalate, vi ricordo, che non crescono al supermercato, nel banco, quello dove ci sono le buste, no, ma crescono nei campi. Quindi vi consiglierei di prendere le insalate da dove vanno prese, da dove vendono le verdure, come si chiamano, ortofrutticoli, quei posti strani. Va bene, se ci date una mano, ve la faccio assaggiare. Chi è che ci dà una mano? Marta, dai una mano. Grazie. Quindi, diciamo, un'autocitazione dello spaghetto alla pomerola che diventa lo spaghetto alla scarpaccia. Sì, un'autocitazione mi piace. Sono autocitato, sì. Ma questo è un po' quello che fare cucina, l'ho già detto, serve a condividere. E lo sai bene che all'imbuto è un ristorante che fa discutere tanto perché io non ho il menu alla carta, 5, 7 o 9, e tarangi, o sennò come si dice tarizzi, cioè vai via. Mi dice intolleranze, allergie, vegano, vegetariano, perché ora c'è tutto in nano. e noi accontentiamo tutti, anche al momento. Cioè, non è che uno deve chiamare 5 mesi prima per dire che è vegano, ce lo dice anche al momento. E questa cosa, lo sai che è successo, Eleonora? Che è successo. Che l'imbuto è diventato un posto dove si fa amicizia. È bello, sì. E allora vedi, che ne so, il francese che fa amicizia col belga, che insomma, è difficile, no? È come dire un pisano. Un pisano livornese. Ecco, esatto. Però la cosa bella è che c'è il tema del confronto. Ma a te quale piatto ti è piaciuto di più nel percorso? Perché poi 5 sono sempre 9, 10, più i dolcetti. Poi, i 9 sono anche 18. Lo sai bene, no? Cioè, lei due volte ha tentato il suicidio. Da me. No, no. Allora, la cosa meravigliosa è che ne mangi tantissimi perché il ritmo è perfetto. Eh, è lì io volevo arrivare. È lì, è l'elemento da sottolineare. Come volevo sottolineare, dopo mi parli del ritmo, che hanno fatto tutti il nido per impiattare questi spaghettini. No, il nido no, no, il nido no, no, il nido. Il nido lo faccio fare al mio amico Gennaro, io. Che ce lo prendo in giro. Fa il nido. Che fa il nido, poi... Nido. Io non sono per il nido, sono per le ammucchiate. Quindi lo spaghetto non lo dovete per forza annidare, no? No, anche perché un goloso come me se mi arriva un assaggio di spaghetti chiuso al nido io faccio una rotolata e una boccata, hai capito? Invece me lo voglio godere un pochino di più. Però, ritornando a prima, vorrei sottolineare che il ritmo è importante e io mi posso permettere di tenere aperto l'imbuto tornando a quello che si parlava prima delle vocazioni, del problema, del lavoro, eccetera eccetera perché io ho una squadra che cari miei ve la sognate tutti, ho una squadra che lavora insieme, che bisticcia, che si prende a male parole ma Chef Tomei mette a budget mensile la birra per i ragazzi perché i ragazzi hanno 25, 26, 30, 21, 19 devono fare i ragazzi. Questo è un elemento di cui prima non abbiamo parlato ma purtroppo negli ultimi anni i ragazzi facevano solo i cuochi dovevano inseguire il sogno della perfezione ripeto la perfezione non esiste in cucina e allora creavi automi e a un certo punto ho deciso di tenere chiusi due giorni alla settimana quindi questi la domenica sera finiscono il servizio si iniziano a ubriacare e finiscono il martedì no scherzo però se lo fanno non me ne frega nulla fanno bene a farlo basta che sono sobri ma hanno vita hanno una vita ma soprattutto succede c'è una forchetta che assaggia anch'io io mi rivolgo sempre a Andrea l'avete assaggiato tutti scusa che io mi preoccupo perché vedo che Tortora non sta mangiando quando in cucina c'è un po' di difficoltà sicuramente si prende di mira quello che è in difficoltà e lo schiacciamo no facciamo il contrario si fa un applauso durante il servizio in sala si girano tutti questi sono dei deficienti ma cazzo sono venuto dall'altra parte della Francia per venire a mangiare da questo coglione e poi si fanno l'applausi ma perché è questo lo spirito giusto ed è per questo che tanti tanti giovani si sono allontanati perché le cucine erano disumane il capitale umano conta più di tutto il nostro lavoro non me ne vogliano gli altri non è uguale agli altri noi facciamo orari smisurati facciamo non sacrificio perché lo scegliamo di fare questo lavoro lo facciamo con piacere ma il capitale umano è fondamentale quindi il rapporto umano e soprattutto è importante quando c'è un problema subito parlare subito parlare 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 a proposito di parlare parlare siccome siamo stati bravissimi anche con il ritmo volevo sapere se ci sono delle domande questo è il momento di farle ti ringrazio per aver lasciato questo per ultimo perché secondo me ci abbiamo tutti nei denti le cosine di senape meno male che l'ho mangiato per ultimo così sempre lamentassi no era era per dire che comunque questa senape ci sta veramente veramente bene e questo concentrato di scarpaccia rende tantissimo l'idea ma se andate a Lucca a Camaiore a Vereggia a mangiare la scarpaccia vera vi renderete ancora più conto della genialità del piatto quindi di cosa vuol dire aver fatto tesoro di un sapore atavico per tutta la vita e poi trasformarlo in qualcosa di altro allora domande? lo so che le volete fare iniziate perché se no prima che c'è il primo timido poi rompe gli indugi avete domande? no? bene allora bene ce l'hai te una domanda per me? io ti ho fatto un sacco di domande sul foraging sullo street food sul rivisitare le ricette perché mi accompagna in questo folle percorso nel mondo della pasta e hanno creduto tantissimo in me e per questo beh anche pasta felicità possiamo dire che è a tema con questa edizione di FoodX perché c'è molto di rebel quindi di di voglia di di percorrere strade non ancora percorse e anche di sperimentare anche su un prodotto che per gli italiani è sacro giustamente e però è bello anche usare un po' di lesa maestà a volte quindi non non preoccuparsi di sperimentare e soprattutto da quando abbiamo iniziato e intensificato la collaborazione sono nate tante cose belle e Riccardo Felicetti e Christian De Floreal sono in cura in una clinica psichiatrica però insomma queste sono le conseguenze di lavorare con Tomei a furia di provare cose nuove ho successo e allora avrete capito perché si fa presto a dire pasta con Cristiano Tomei andatelo a trovare a Lucca all'imbuto di Lucca in quella meraviglia che è Palazzo Fanner si spende un sacco di soldi ve lo dico certo ovviamente Palazzo Fanner che avrete visto probabilmente nel film del Marchese del Grillo perché è proprio quel palazzo dalle cui scale scende Alberto Sordi alias il Marchese del Grillo e ti hanno anche il ritratto infatti vestito da Marchese perché ho fatto una cosa con un'azienda con cui collaboro e come diceva il Marchese del Grillo io so io e voi non siete un cazzo Cristiano Tomei grazie 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 grazie